giornata importante mancano un paio di minuti alla chiusura dell'America questo è l'SMP 500 equipesato oggi meno uno e tredici e andiamo a chiudere sotto la media duecento la spalla destra del testa e spalle ribassista che avevamo tracciato qualche giorno fa sta prendendo momentum verso il basso e quindi qui c'è da attendersi il test qui oggi è saltato il primo piccolo gap a 141 ora c'è l'altro molto importante qui a 140 oggi chiudiamo 141 quindi un punto di distanza non siamo lontani qui ci potrebbe essere un rimbalzo perché questa dove mi trovo adesso col pointer è una fascia di supporto ovviamente se andiamo a guardare gli indici principali a cominciare dal Nasdaq non ci capiamo niente quindi dobbiamo semplicemente evitare di guardarli Nasdaq oggi più 0 59 sta ancora appeso lì sopra fra le due resistenze nonostante la maggior parte del listino vediamo la heat map questa è l'heat map delle S&P 500 ma quella del Nasdaq è praticamente analoga è tutto rosso tranne 3 4 titoli ma questi 3 4 titoli sono quelli a grande capitalizzazione come vedete dalla dimensione del rettangolino e quindi con pochi titoli l'indice rimane lì rimane lì tutti tranquilli fiera in grid index neutrale siamo scesi e non siamo più in zona di avidità ma c'eravamo fino a ieri siamo neutrali quindi tutti tranquilli perché gli indici tengono gli indici tengono ma il Nasdaq fa più 0 7 grazie a questa qui grazie in particolare un titolo microsoft che fa oggi più 7 3 per cento sull'onda della trimestrale tenete presente che microsoft capitalizza oltre due trilioni di dollari stiamo parlando di 2 mila miliardi 2,2 trilioni con tutto il Nasdaq che 17 8 17 9 trilioni quindi microsoft da sola fa oltre il 10 per cento solo microsoft della performance dell'indice quindi se io oggi ho microsoft che fa più 7,4 il 10 per cento di più 7,4 e più 0 7 queste quindi voto per pieno siccome capitalizza più del 10 per cento diciamo più 0 8 più 0 8 del Nasdaq oggi l'ha fatto solo microsoft ok quindi quando io vado a leggere la performance del Nasdaq che ci faccio sopra le analisi non ho la percezione della della situazione ecco perché guardiamo gli indici equipesati e gli etf agganciati agli equipesati perché poi la stessa storia si ripete sull'S&P 500 che infatti sta facendo meno 0 3 mentre l'equipesato sta andando a chiudere a meno 1 cioè sono 0 7 di differenza e anche lì sull'S&P 500 la fanno la fa il peso dei fang ecco queste sono cose che abbiamo già detto ripetuto però questi sono i classici le classiche giornate in cui queste manifestazioni si evidenziano in maniera più eclatante quindi è importante Russell meno 0 7 Russell continua e anche qui siamo in una fascia di supporto di breve ci potrebbe essere un rimbalzo però comunque è partito decisamente un impulso verso il basso che al di là delle dei rimbalzi di breve dovrebbe andare a vedere area 169 quindi anche qua non siamo molto lontani ci sono i minimi di dicembre e il doppio minimo di marzo quindi questo è un livello molto importante che poi aprirebbe la strada in caso di rottura ai minimi del 2022 verso l'alto è chiaro bisogna tener conto della di questo gap di ieri fra la chiusura del 24 e la candela del 25 aprile apro per far vedere meglio e dove mi trovo adesso col pointer quindi il superamento a rialzo di quel livello cambierebbe il quadro tecnico ogni quadro tecnico c'ha una probabilità di raggiungere degli obiettivi e poi ha un piano a e un piano b perché la palla non ce l'ha nessuno quindi non sappiamo cosa potrebbe accadere domani per cui dobbiamo avere dei livelli che ci dicono che l'attuale quadro è cambiato o potrebbe cambiare comunque a proposito di testa e spalle anche il Russell eccolo qui ne sta completando uno tra l'altro di tipo abbastanza negativo perché quando il testa e spalle è anche per giunta inclinato acquista una valenza tecnica superiore però ricordo sempre che i testa e spalle sono tali solo quando viene rotta la neckline non prima quindi qui purtroppo o per fortuna fino all'area che sto tracciando adesso con quella specie di circoletto che tradotto è 166 per l'etf sul Russell non si può dire nulla per quello che riguarda il testa e spalle poi se dovesse essere bucato andremo a vedere un po' quali potrebbero essere gli obiettivi però un passo alla volta oggi l'altro asset in performance negativa è il petrolio meno 36 ma non solo alla performance negativa ma ci da un segnale tecnico importante che è l'annullamento del gap che si era aperto con i tagli alla produzione dell'OPEC quindi questo è un segnale molto importante perché di fatto ha neutralizzato un milione passa di tagli di produzione un milione passa di barili di tagli alla produzione nel giro di pochi giorni si è rimangiato tutto il beneficio no che sembrava sembrava qui partire un impulso a rialzo e quindi il segnale di oggi è molto importante questa chiusura del gap anche il gas in tutte le sue varie manifestazioni sia il TTF che l'XNG continuano ad avere segni negativi molta volatilità sul bitcoin che disegna una shooting clamorosa un amico chiedeva ma come va il bitcoin sale sarà per effetto paura e sì fondamentalmente sì perché abbiamo visto che anche nella fase precedente quando c'è stato il infatti ecco è qui 12 marzo è partito qui il rally del bitcoin perché ha torto a ragione qualcuno lo considera un bene rifugio e quindi c'è stata questa sparata verso l'alto che però dal punto di vista tecnico abbiamo sempre detto di guardare con molto sospetto perché c'è in corso la formazione di una broad information che rimane tuttora valida oggi una giornata veramente strana perché un certo punto segnava quasi un più 5 per cento ha toccato 30.000 e sta chiudendo con meno 3 per cento quindi importante è anche il il comportamento di questi asset più speculativi che comunque confermano che siamo in una fase di alta volatilità il VIX risale 19 niente di che c'è ancora tanta strada verso l'alto se questo trend dovesse continuare comunque si è rimangiato la rottura di area 18 quindi anche questo è un segnale tecnico significativo ora nel dopo borsa dovrebbe esserci la pubblicazione della vediamo un attimo i fang vediamo se c'è qualche informazione così lo vediamo in diretta sulle trimestrali di oggi apple nel post rimane invariato amazon 104 ecco google è una che ha deluso perché ieri con la pubblicazione dei trimestrali nel dopo borsa segnava 108 poi in realtà oggi è rientrata nei ranghi meno 0 2 di microsoft abbiamo già detto tutto sommato la figura di oggi è una star fatta proprio sulle resistenze a 2 93 resistenze molto importanti guardate dove è andata a fermarsi questo era il gap di aprile 2022 questi sono livelli molto importanti per cui i prossimi giorni ci diranno se le novità che sono emerse a seguito della pubblicazione del trimestrale in termini di miglioramento del risultato prospettive eccetera sono tali oppure no perché se sono tali questo gap significa che potrebbe essere iniziata una nuova fase per microsoft sopra 293 quindi continueremo a seguirla nei prossimi giorni proprio per questo motivo ecco meta credo che pubblicasse i dati vedo un 210 rispetto a 209 28 quindi non ci sono grossi sommovimenti ecco l'altro titolo pesante oggi tesla meno 4,3 nel gruppo di dei titoli ad alta capitalizzazione però tesla ormai è venuta giù parecchio quindi siamo adesso lo vediamo esattamente qui siamo a 486 miliardi quindi tesla ormai si è allontanata dalla soglia del trilione il trilione che aveva toccato e superato l'anno l'anno scorso e a fine 2021 in particolare quindi pesa perché comunque pesa pesa mezzo trilione comunque non comparabile con quello che in questo momento valgono e titoli come apple e microsoft quindi ricontrolliamo un attimo meta vediamo che qui non ci sono grosse novità quindi ecco questa era un po' l'attesa per il dopo dopo ore 22 e quindi la giornata di domani e in particolare di venerdì sarà molto importante e ci avviamo poi la settimana prossima perché ci sono altre trimestrali importanti in uscita nei prossimi giorni e poi la settimana prossima sarà la settimana delle banche centrali con la decisione sul ulteriore aumento dei tassi di interesse va bene io direi per oggi video un po più breve grazie per i commenti lasciate sempre i vostri punti di vista segnalazioni situazioni interessanti così poi le commentiamo assieme per il momento buona serata a tutti appuntamento a domani ciao a tutti i nostri punti di